Sono trascorsi più di 50 anni dal momento in cui Kost Magana, stilista e imprenditore, alla continua ricerca del meglio, decise di realizzare il suo sogno, creare e fabbricare i suoi prodotti. Oggi il suo sogno è realtà. TAHE offre la più ampia gamma di prodotti per uso professionale e rivendita al pubblico. In tutti questi anni migliaia di saloni e milioni di clienti hanno scelto la qualità e l'innovazione dei prodotti TAHE, oggi presenti nei saloni di oltre 45 paesi nel mondo. In TAHE dedichiamo oltre 20.000 metri quadrati alla gestione globale del processo di realizzazione delle nostre linee. Un team multidisciplinare è attento alle esigenze della clientela, al centro della nostra pianificazione e strategia di produzione. Disponiamo di un laboratorio interno proprio, dove i nostri chimici esperti sono impegnati in un continuo lavoro di ricerca, innovazione e sviluppo. Ricerchiamo, formuliamo e testiamo fino a raggiungere la formula perfetta per ognuno dei nostri prodotti. Realizziamo ogni anno oltre 3.000 test di prodotto nel nostro dipartimento tecnico. Utilizziamo le più innovative tecnologie nel sistema di elaborazione e confezionamento, a garanzia dei più alti standard di qualità in linea con le norme di produzione più esigenti, ISO 22716 e ISO 9001. Ogni anno elaboriamo e inviamo più di 150.000 ordini in più di 45 paesi nel mondo, attraverso un'affitta rete commerciale. In TAE sviluppiamo una strategia di marketing globale per i nostri clienti. video di formazione, rivendita professionale, area negozio, social. È continuo il nostro impegno nella formazione e nell'aggiornamento dei nostri clienti. Mettiamo a loro disposizione una rete di oltre 80 collaboratori tecnici, che in modo continuo aggiornano, informano, preparano i nostri clienti in oltre 2.400 tra presentazioni, seminari e consulenze personalizzate. Ogni anno svolgiamo più di 350 corsi, più di 21.000 partecipanti, portando alla nostra clientela le ultime tendenze e novità, tanto informazione tecnica quanto artistica. Il successo dei nostri clienti è la nostra missione. Per questo realizziamo progetti innovativi per i saloni e oltre 40 incontri annuali di gestione e direzione del salone. Innoviamo per migliorarci insieme a voi. Con TAE Shopping abbiamo sviluppato un sistema unico per massimizzare il rendimento del salone. Analizziamo l'attività del salone, ottimizziamo i servizi del salone, miglioriamo la gestione dei collaboratori e massimizziamo la rivendita professionale dei prodotti. Qualità, innovazione e sviluppo sono il motore che ci fa muovere ogni giorno. Benvenuti! Benvenuti! Grazie a tutti